Ero ragazzino, quando sono inciato in Cosa Nostra. Mi punsero il dito con un ago e mi dissero di strafinare il sangue su un santino. Poi uno diede fuoco all'immaginetta e io pronunciai la formula di rito. Se tradirò Cosa Nostra, le mie carni bruceranno come questa sagra affice. Una volta entrato in Cosa Nostra è per sempre. Cosa Nostra viene prima del sangue, della famiglia, delle relazioni e del paese. La qualità dal mafioso non si perde mai, è per sempre. La qualità dal mafioso non si perde mai. Ciò che rende unico questo maxiprocesso è che per la prima volta si fa breccia nel codice di omertà di Cosa Nostra. Si tratta della più imponente operazione antimafia dalla fine della seconda guerra mondiale. La testimonianza di quest'uomo potrebbe far condannare più di 400 membri di Cosa Nostra. Dopo il suo tradimento è diventato il bersagno numero uno della mafia. È il più importante pensito di mafia mai comparso in un'aula di tribunale. Gli investigatori possono contare su uno dei più importanti pentiti di mafia della storia. Buscetta è un bugiardo. Buscetta? Questo è un vero. Ha consegnato alla magistratura una confessione di 3.000 pagine in cui denuncia i legami tra le cosche siciliane e la mafia italo-americana. La sua testimonianza dovrebbe portare a molti arresti oltreo c'è. Il nostro prossimo test è Tommaso Buscetta. A tutale della sua stessa incolumità il signor Buscetta è stato trasferito in una località segreta dove ora vive sotto falso nome per motivi di sicurezza. Dunque oggi deporrà protetto da un paravento. Quest'uomo sta testimoniando contro alcuni degli uomini più pericolosi al mondo. Ed è dovere del governo degli Stati Uniti prendere tutte le necessarie precauzioni per proteggerlo. Fate entrare il teste. Ecco mio padre che mi guarda storto. Ecco, è mio padre. Non devi correre con la madre. Ma se non corre. Sì, ma io ti ho visto in cucina che tu vai provo, adesso ho una cappella di minima. No, ma non c'è. Buongiorno signor Presidente e membri della sottocommissione. Il mio nome è Tommaso Buscetta. Ti ho speso la maggior parte della mia vita come membro della mafia siciliana. Io ho visto molti cambiamenti in questa organizzazione al punto di non sentirmi ulteriormente legato dal codice dell'onertà o del silenzio. Non avevo tribunale. Non avevo a carcere. L'unica cosa che aveva era terrorizzare. È difficile immaginare fino a che punto una sola decisione ti possa cambiare la vita. Fatta quella scelta il tuo destino è segnato. Non puoi più tornare indietro. Tommaso ha avuto otto figli da tre donne. Io sono stata la terza. E ho avuto due maschi. È la prima volta che parlo apertamente della mia vita. Ora ho mai più. Non ho più paura di nulla. Ma si corre sempre qualche rischio. Il rischio esiste. Una telefonata e siamo morti. C'è gente che farebbe di tutto per avere la testa del figlio di Tommaso Buscetta. Se gli dessi la possibilità di scoprire dove vivo, ne approfitterebbero subito. Ho perso due fratelli. Ho perso due zii. Ho perso tante persone care. E non è per paura che nascondo il mio volto, ma una famiglia da proteggere, o dei figli, una moglie. Non saremo mai fuori pericolo. La mafia non dimentica. Senti un po'. Devo dirtela questa cosa, lo so. Ci risiamo. Lo so, lo so che è tempo perso. Lo so che tanto non cambi idea. Non mi piace vederti andare in giro con una pistola. È una pessima combinazione. Senti, mamma. Me lo sono guadagnato il diritto di portarmela in giro. E sai qual è la cosa più bella? La legge me la consente. Dio benedica l'America, giusto? Esatto. Ma è pericoloso. Un giorno magari qualcuno ti fa perdere la testa e... È pericoloso per chiunque si permetta di minacciare te, me, mia moglie o i miei figli. Se lo dici tu, le detesto le armi. Tanto non mi fai cambiare idea. Io giro sempre armato perché mio padre ha fatto barcollare un'organizzazione che esisteva da secoli. E c'è sempre il rischio che succeda qualcosa perché alcune di quelle persone sono ancora vive e vogliono ancora vendicarsi. I mafiosi non sono le figure romantiche che voi vedete nelle pellicole cinematografiche. Essi sono uomini di violenza. Fino a che il pubblico non capirà effettivamente la vera natura di Cosa Nostra, il potere di esse e la sua violenza continueranno. Nei primi anni Sessanta, otto agenti di polizia furono uccisi a causa di una bomba scoppiata in un'auto. A seguito di ciò si verificò uno scolpore pubblico contro la mafia e venne emesso un certo numero di mandati di arresto, io ho compreso il mio. Io lascia la Sicilia, andai in Messico, di lì in Canada e in New York. Io lascia gli Stati Uniti nel 1971, dopo che ero stato trattenuto per possesso di un passaporto falso. Andai in Brasile. Vivevo in Rio e un giorno me ne sono andata in spiaggia. Quest'uomo si è presentato, si è seduto accanto e abbiamo chiacchierato per quattro ore. Mi ha raccontato che si trovava in Brasile per avviare una produzione di pomodori in scatola che all'epoca lì non c'erano. Mi aveva davvero affolgorato. Veramente. Se mi avesse detto che era Gesù Cristo, forse gli avrei creduto. Io avevo vent'anni. Lui, 42. Era carnavale. Eravamo all'inizio della nostra relazione e c'era una donna che stava flirtando con lui e ovviamente ne era lo zingato. A un certo punto mi ha fatto arrabbiare. Ero fuori di me perché si è alzato, ha preso il nostro champagne e si è seduto al tavolo con lei. Ho pensato, ora gli faccio capire con chi ha a che fare. Mi sono alzata. Ho preso la bottiglia di champagne e pa! Pa, pa, pa! Petri dappertutto. Gli ho detto, chi ti credi di essere? Io sono molto più giovane di te. Se voglio posso spassarmela anch'io, molto più di te. Rientrati a casa, ha chiuso la porta e ha detto, ora le prendi. E le ho prese. Mi ha afferrato e mi ha fatto guai a te se ci riprovi. Non azzardarti più a mettermi in imbarazzo davanti a tutti. Quando diventava violento non si tratteneva. Faceva il pazzo. Non ho mai chiesto a Tommaso se fosse un mafioso o se avesse qualche legame con la mafia. Perché non volevo che mi mentisse. Io, insieme ad altri, persuademmi i capi della famiglia siciliana di creare una commissione in Palermo. Rientravo nella responsabilità della commissione di decidere in materia di dispute tra famiglie e compito dalla commissione a decidere in fatti di esecuzione di un uomo d'onore. Ciascun uomo d'onore è ucciso almeno una volta per conto di cosa nostra. Da quando si è affiliato alla mafia nel 1948, quante persone ha ucciso? Io non posso rispondere a questa domanda. Perché non per mancare di rispetto a lui. La legge italiana non mi permette di rispondere a questa domanda. Nella mafia ha dovuto dimostrare di essere un uomo. E lo ha fatto. Ha detto, Cristina, devo dirti la verità. Ormai sono passati anni, ma io ho ucciso. La cosa mi ha addolorato. Ho deciso che con amore e affetto sarei riuscita a cambiarlo. Ma sei mesi dopo che ci eravamo conosciuti, è stato arrestato. Per un caso, ero in servizio quando è stato arrestato. Qui in Brasile non aveva commesso reati di particolare gravità, ma in Italia sì. Erano convinti di aver arrestato un importante boss mafioso, coinvolto in traffici di droga. Cosa che in realtà mio marito detestava. La polizia brasiliana ha confermato che il noto malavitoso Tommaso Buscetta è stato estradato in Italia, dove è accusato di narcotraffico. Sono stato condannato a otto anni di riuscita. Ma io, in vita mia, non sono stato mai preso né per uso personale con un grammo di droga, un grammo né cento chili. Sicuramente tutti si staranno chiedendo come facevi a stare con un boss mafioso. Ma io non ho mai considerato il nostro rapporto in questi termini. Quando ero ricoverata per la nascita di Roberto, Tommaso era in carcere. Ho pensato di far vedere a mio marito le immagini del bimbo. Ho scattato delle foto, ho girato un filmino e glielo ho mandati. Mio padre aveva due famiglie separate. Quella che aveva in Sicilia, che aveva formato con la sua prima moglie, e quella che più tardi ha messo su in Brasile con Cristina. Mia madre ha adottato le due bambine nate dalle prime nozze, perché erano piccolissime e dipendevano da mio padre. Eravamo io e Alessandra. Lei avrebbe potuto dire non le voglio quelle bambine, giusto? Avrebbe dovuto farci da madre senza sapere quando avrebbe rivisto il marito. E invece quella donna ha smosso mari e monti. Ha fatto di tutto per tenerci e ci siamo trasferiti tutti insieme in Italia. Ha detto, devo occuparmene io. È una questione di lealtà. Se ami qualcuno, devi accettarlo per quello che è. Andarlo a trovare in prigione era un'esperienza sgradevole. Mi dava molto fastidio vedere come toccavano mamma durante le perquisizioni. Non era per niente piacevole e al termine della visita ricordo che trattenevo mia madre dicendo, aspetta. E lo vedevo mentre faceva scivolare il braccio tra le sbarre nel tentativo di salutarci. Non so cosa avesse fatto. So che era un don, vale a dire un boss, Don Masino. Ecco cos'era. Don Masino qui, Don Masino lì. Per me era papà. Non mi importava cosa diceva la gente. Era mio padre. Signor Presidente, io sono stato otto anni dentro Lucerdone e io sono stato padrone incontrastato dentro Lucerdone. Ho fatto tutto quello che a me andava a genio di fare. Ci siamo sposati in carcere. Il testimone di nozze era un malavitoso di quelli tremendi. Con Tommaso si sentiva al sicuro perché nessuno avrebbe osato ammazzarlo. Ma appena lo hanno trasferito in un altro carcere, lo hanno ucciso con cento coltellate. non appena venne rilasciato io cominciai a convincermi che gli superfacenti avevano cambiato tutto. La realtà della famiglia, i codici del rispetto che io ho conosciuto da mafioso stavano diventando rapidamente una cosa del passato. Faide di mafia per le strade di Palermo. L'ultimo scontro ha causato centinaia di morti. Salvatore Riina, detto la Belva, uno dei più potenti boss di Cosa Nostra, ha assunto il controllo del narcotraffico negli Stati Uniti, fomentando una sanguinosa guerra per il controllo del territorio. I cadaveri appartengono a due boss, vittime della guerra scatenata a Palermo da Totò Riina. Erano ritenuti associati a Tommaso Buscetta, ora in carcere, e rappresentavano la vecchia guardia dei vertici mafiosi. Riina era uno psicopatico e quello psicopatico aveva assunto il potere. Comanda sempre chi ha i soldi. Adesso il valore era denaro, adesso il valore era avere la villa al mare o avere le montagne, adesso il valore era chi sparava di più. Nel giro di pochi anni, fra il 1981 e il 1983, ci furono più di 400 morti in Palermo. in precedenza la mafia non si era voluta immischiare in questione di stupefacenti. Essa attirava troppo l'attenzione dell'autorità e troppa pressione. Ora invece la parte principale degli affari della mafia era costituita dagli stupefacenti e tutti se ne erano arricchiti. Insieme agli stupefacenti era venuto più denaro, più ingordigia e meno ore. Un giorno io e mio fratello stiamo tornando da scuola e non vediamo l'ora di farci una doccia, cenare per poi fare i compiti. Ma che? Si parte! Dove andiamo? Attraversiamo l'oceano, bambini, torniamo in Brasile. Pensavo che in Brasile saremmo stati al sicuro. Grave errore. Avevo dieci anni, non sapevo nulla di mafia, non sapevo nulla di crimine organizzato o quel genere di cose. Mio padre mi ha detto accompagnami andiamo a prendere qualcuno. Abbiamo girato per un'ora con l'auto ma mio padre non riusciva a trovare queste persone. Mi sono girato e ho detto sono loro laggiù e quello era un vero pezzo grosso della mafia. Il capo della commissione a Palermo mi ha regalato i miei primi cinque dollari per averlo riconosciuto in mezzo alla folla di Copacabana in piena estate e li ho conservati per anni finché non ho capito chi me li avesse dati. Mi disse che era il momento di tornare che io dovevo aiutare la cosa nostra a liberarsi di Salvatore Rini ma che rispose che non desideravo mettermi nel mezzo di questa guerra che a me non apparteneva. non era una cosa mia. Quel boss di Cosa Nostra stava cercando di convincerlo a partecipare alla guerra di mafia in Sicilia. Mio marito ha risposto ho appena avuto un figlio voglio solo dedicarmi a lui. E io vi dico che a me non interessa quella guerra perché io ho fatto tanti anni di valera volevo godermi la mia libertà. Stefano è stato un nuovo inizio e Tommaso se lo mangiava con gli occhi. A partire da quel giorno è stato il suo cocco. Benché io avesse rifiutato da un mafioso che ritornò in Sicilia è sparsa la mezzogna che io usavo per ritornare per mettermi contro i Corleonesi. Di conseguenza mentre ero ancora in Brasile i Corleonesi cominciarono la brutale sistematica distruzione della famiglia che io ho lasciato in Sicilia. Aveva supplicato i suoi figli di stare lontani dalla mafia. Che ci fate ancora a Palermo? Venite in Brasile. Al telefono c'era una donna che urlava era sua nuora e ha raccontato che il giorno prima i figli di Tommaso erano spariti in quel preciso momento è sbiancato in volto non ha fiattato ma aveva capito non avrebbe più rivisto i suoi figli erano già morti non potevano rivelare dove si trovava il padre non lo sapevano li hanno torturati e li hanno ridotti in fin di vita poi li hanno sciolti nell'acido sì li hanno sciolti nell'acido sapevamo che era successo qualcosa di terribile ai miei due fratelli una parte di mio padre è morta con loro si sentiva responsabile per l'accaduto ha sempre cercato di tenerci fuori da tutto ma quando ha perso i suoi due figli ecco lo capivi una parte di lui si è spenta e non si è più ripreso ha interiorizzato tutto quella perdita è stata terribile non ne ha mai più parlato mai non abbiamo mai discusso della morte dei miei fratelli mai nemmeno una volta ma per papà era stato un colpo durissimo c'era la guerra di mafia in corso d'accordo ma non immaginavo che si potesse arrivare a questo punto fu solo l'inizio della strage due mesi dopo colpirono di nuovo santo stefano di sangue ha raggiunto il culmine ieri sera con la strage del new york place una pizzeria dove due killers hanno ordinato quattro pizze e dopo aver chiesto del proprietario di zaioli hanno aperto il fuoco uccidendoli tutte e tre gli assassini hanno invece risparmiato la donna che sedeva la cassa la ragazza Felicia Buscetta è infatti la moglie del Genova ma soprattutto la figlia di Don Masino non si esclude però che Masino Buscetta legato ai clan dei perdenti sia tornato a Palermo per vendicare due suoi figli misteriosamente scomparsi mia sorella ha perso il marito gliel'hanno ucciso davanti agli occhi e la campagna di morte e distruzione di Totò Riina è proseguita due giorni dopo sono tornati Vincenzo era il fratello che prediligevo mandava avanti alla vetreria di famiglia ma soltanto ecco mi dicono in questo momento che sono arrivate le immagini vediamo un momento di vederle insieme ecco e Palermo sembra essere diventata un mattatoio in quell'ufficio ci avrò giocato milioni di volte una volta ho rotto un vetro e zio Vincenzo mi ha detto non preoccuparti qui di vetro ne abbiamo un sacco nell'ufficio dove li hanno ammazzati ci passavo giornate intere i killer fecero scempio prima spararono in faccia a mio fratello che era seduto alla schivania mia nipote accorse per aiutare il padre ma non era armato uccisero anche lui è stato col secondo arresto nel 1983 che mi sono reso conto davvero di cosa stesse accadendo quella mattina mio padre mi stava accompagnando a scuola in macchina c'era anche la mamma è bello qui ma ci sono troppi poliziotti ci siamo fermati a fare colazione appena è sceso dall'auto è stato circondato da un nugolo di poliziotti poi mi hanno portato via non lo dimenticherò mai io ero seduta accanto alla culla di Stefano il mio fratellino che era molto piccolo con me c'era anche mia sorella Alessandra dovevamo restare in macchina perché c'erano un sacco di fotografi che cercavano di scattarci delle foto eravamo circondati dei paparazzi sentivo i poliziotti che si congratulavano tra loro abbiamo preso il pesce grosso speravo che non fosse mio padre ho dovuto usare un mandato d'arresto per associazione finalizzata al narcotraffico per poter trattenere l'intera banda a partire da quel momento i media hanno dato un risalto enorme all'arresto finalmente il mondo può vedere in volto il boss dei due mondi queste sono le uniche immagini pubbliche di Tommaso Buscetta arrestato oggi a San Paolo Buscetta è sembrato sorpreso di trovarsi davanti ai giornalisti si è limitato a sorridere lanciando sguardi ironici a fotografi e telecamere senza dire una parola dica qualcosa la prego ci dica qualcosa coraggio a mio avviso qui in Brasile Buscetta non era coinvolto in attività di narcotraffico ma la gente che frequentava in quel periodo apparteneva senz'altro a delle cosche all'epoca era uno dei ricercati più famosi del mondo persino la polizia americana ci ha fatto le congratulazioni quando Buscetta è stato arrestato in Brasile ho assunto il caso sono partito per San Paolo e ne ho chiesto l'estradizione negli Stati Uniti Buscetta era un latitante le autorità americane lo ricercavano perché era accusato di essere stato coinvolto in attività di narcotraffico nel paese volevamo assicurarci che i brasiliani lo consegnassero a noi siamo arrivati contemporaneamente alla delegazione italiana anche loro avevano i loro buoni motivi per cercare Buscetta e quando il procuratore italiano il giudice Falcone lo ha incontrato ho notato subito dal linguaggio del corpo dal modo in cui si guardavano si trattavano che tra i due c'era un rispetto reciproco su questo non c'è dubbio quest'uomo mi destava una particolare attenzione per la sua intelligenza per la sua maniera di essere perché lui sapeva per intero tutto quello che intendevo dire per metafore il linguaggio palermitano e siciliano cosa molto difficile a uno che non è cresciuto nella terra dove sono nato non c'è dubbio che Falcone è stato il più grande magistrato sul fronte del contrasto alla mafia Buscetta voleva parlare non con i magistrati voleva parlare con Giovanni Falcone al ritorno Falcone dice è successa una cosa strana a un certo punto ci sai gli ho fatto la solita domanda che facciamo sempre non vogliamo parlare di mafia ci sai che mi ha risposto Buscetta no mi ha detto dottore Falcone non basterebbe un'intera notte le chiedo scusa ma sono molto stanco e Falcone mi dice secondo me è stato un segnale questo forse vuole collaborare la mia risposta fu Falcone effetto jet lag vatti a fare un bel riposo e domani mattina riacquisti lucidità l'omertà era un muro di qua c'era la società civile lo stato al di là c'era cosa nostra per cui era quasi inconcepibile pensare che da dietro quel muro uno decidesse di picconarlo e di cominciare a parlare con noi è stata l'omertà la parola omertà è qualice lunga tra le sue cose Tommaso ha lasciato una lettera amore ancora una volta ti procuro di dispiaceri ma spero che questo sia veramente l'ultimo non hai mai smesso di volermi bene di vedermi come il principe azzurro ma io il tuo principe azzurro non posso essere il tuo guzzino che destino paradossale vi abbandono perché vi amo sono in una cella senza finestra mi sento solo immensamente solo quando mi hanno comunicato che dovevo ritornare in Italia ho detto no la faccio la faccio finita qui nel corso della notte Tommaso Buscetta è stato ricoverato in un ospedale di Brasilia dopo aver assunto una dose di strichnina un veleno potentissimo domani il capo mafia avrebbe dovuto essere trasferito in Italia dove deve rispondere dell'accusa di traffico di stupefacenti la moglie di Buscetta Cristina è arrivata in ospedale visibilmente agitata ha dichiarato che era completamente all'oscuro dei propositi di suicidio del marito la donna ha negato di essere stata lei a fornire al consorte la strichinina come sostiene la polizia è molto comodo scaricare su di me le loro responsabilità toccava alle autorità a proteggerle non potrei mai mettere a repentaglio la vita di mio marito abbiamo quattro figli l'ho visto molto depresso e quando ha guardato Stefano è scoppiato a piangere non avevo mai visto mio marito piangere in quel modo era disperato ho fallito di nuovo ha detto per te sono soltanto un problema ho risposto un problema che ho scelto io ormai quel che è fatto è fatto ci siamo messi insieme ci siamo innamorati non si può tornare indietro ti amo e mi va bene così e io ho perso figli cognati fratelli nipoti nessuno di loro era un uomo d'onore e questo è quello che più mi ha tormentato io non mi sono mai lamentato che cercassero me stanno in gioco delle parti ma i miei figli no i miei figli non entravano quindi questa è una delle ragioni più vere che io ho posto a me stesso per poter collaborare con la giustizia a me stesso mi ha perso un aeroporto ti sento in casa Occhiali scuri, aria distaccata e le manette nascoste da una coperta. Così è arrivato all'aeroporto di Fiumicino il boss mafioso Tommaso Buscetta. Il boss mafioso, prima di partire, aveva attentato il suicidio. Un momento di debolezza o la convinzione che stavolta difficilmente sarebbe riuscito a tornare in libertà. Ricordo che quando l'ho visto con quella coperta sulle braccia ho subito pensato, non sembra neanche lui. Era molto diverso da quell'uomo mascolino e robusto che aveva avuto davanti solo un paio di settimane prima. È stato un vero shock vederlo in quello stato. L'importanza della collaborazione di Buscetta, quando si usa, si scomoda il termine storica, importanza storica. Da quel momento nulla sul fronte dell'antimafia, ovviamente, potrà mai essere come prima. Ricordo che gli ho detto qualunque cosa tu faccia ho fiducia in te, sono dalla tua parte. Se decidi di collaborare, io sarò al tuo fianco. Buscetta non avrebbe mai collaborato con la giustizia, ma quando tu gli ammazzi i figli, il maritore, ma che vuoi? Per il Buscetta mafioso, Rina è l'apostata, un bestemmiatore rispetto al codice mafioso. E lì lui capisce che l'unica strada che gli rimane per consumare le sue vendette è collaborare. Incontrerei il dottore Falcone e le disse che volevo collaborare. Era un avversario di Cosa Nostra. Per me Giovanni Falcone era lo Stato. Lo vedevo come l'uomo che voleva combattere veramente la mafia, non lo Stato italiano che faceva i comizi. Io ho deposto Falcone da luglio al dicembre del 1984, quasi tutti i giorni. Intendo premettere che non sono uno spione. Sono un uomo stanco che riconosce che quello in cui ho creduto non esiste più. Voglio raccontare quanto è a mia conoscenza su quel cancro che è la mafia. Amore mio, vorrei saperti descrivere il trauma di ammettere pubblicamente di essere mafioso. Violare il codice dell'omertà è stata la scelta più difficile della sua vita perché aveva questa sensazione di tradire qualcosa di sacro. L'omertà è sacra. O lo era un tempo. O ora sono solo fesserie. A seguito della testimonianza di Buscetta in tutta Italia sono stati spiccati centinaia di mandati d'arresto. Si tratta della più importante operazione antimafia dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Secondo gli inquirenti, Buscetta ha fatto anche i nomi di membri della mafia italo-americana. Gli americani ci chiedono parole povere. Quando finite voi ce lo date perché serve anche a noi. Devo dire, onestamente, a noi non ci sembrò vero perché Buscetta si portava dietro problemi di garanzia della sua sicurezza non da poco. Lo hanno trasferito negli Stati Uniti perché l'Italia non era in grado di garantire la sua incolumità. Il capo della DEA mi ha detto l'unica cosa che vuole è che lei e i ragazzi viviate sotto protezione negli Stati Uniti. Ha chiesto solo questo. Mamma è tornata e ha cominciato a fare i bagagli. Stiamo andando negli Stati Uniti. Sì, eravamo entusiasti. Nessuno di noi c'era mai stato. Andremo a Disneyland. Fantastico! Quando si parte? Ieri sera, il 20 dicembre 1984, Tommaso Buscetta è stato restituito agli Stati Uniti. Passerà i prossimi mesi in una località segreta. Ci auguriamo in condizioni di totale e assoluta sicurezza perché quest'uomo è a rischio e sta offrendo informazioni su alcuni degli uomini più pericolosi del mondo. Ed è responsabilità del governo americano prendere misure di sicurezza eccezionali per proteggerlo. Il primo nascondiglio stava nei soborghi del New Jersey. Lo sorvegliavamo 24 ore al giorno, a turno. Ci alternavamo in 8 o 9. In circostanze del genere finisci per conoscerla bene una persona. La mia prima impressione di Buscetta era di un uomo estremamente calmo e lucido, considerata la situazione. Era rassegnato alla sua condizione, era rassegnato all'idea di andare fino in fondo, a prescindere dalle conseguenze. Non mostrava nessuna esitazione. Era deciso a mantenere la parola data. I miei angeli custodi saltavano per aria a primo rumore. Non mi lasciano mai uscire da questa casa. Solo gli agenti che mi proteggono si possono avvicinare a me. Le mie giornate sono lunghe, anche perché non parlo una parola d'inglese. Cercano di mandarmi qualche agente che sappia l'italiano. Era un mafioso, era un criminale. Su questo non ci piove. Tuttavia, avevamo un buon rapporto. Una volta, mentre passeggiavamo in cortile, ha raccontato che alcuni membri della sua famiglia erano stati uccisi da Totò Riina, ma di solito non amava parlare del suo passato. Bisogna tenere presente che durante quel periodo Buscetta è stato il testimone più importante, più braccato e più in pericolo nella storia della giustizia americana. Per ovvie ragioni di sicurezza, solo pochissime persone sapevano dove si trovava. Nemmeno ai magistrati era stato rivelato l'indirizzo del rifugio. Quando dovevano sentire Buscetta, un agente dell'FBI li andava a prelevare in tribunale a Manhattan e ce li accompagnava a bordo di un furgone dai vetri oscurati, perché avrebbero potuto tradirsi anche senza rendersene conto. Proibiscono a mia moglie di dirmi in quale località si trova e proibiscono a me di dire dove mi trovo io. Mi dicono, lo devi accettare per la sicurezza di tua moglie. Finalmente ci hanno permesso di andare a trovare mio padre. Alcuni agenti ci hanno incontrato, ci hanno fatto salire su una loro auto e abbiamo attraversato questa bella campagna. Se non sbaglio, non lo vedevo da due anni e all'arrivo siamo stati accolti da una scena surreale perché c'era un gruppo di agenti della Dea armati fino ai denti che stavano mangiando un piatto di pasta. Era bravo come cuoco, mi piaceva come cucinava e la mattina ci dava la lista degli ingredienti da comprare, quello che gli serviva. Poi li usava per preparare i pasti e noi apprezzavamo. Vivevamo come cori, inquilini. Adoro cucinare, mi piace la cucina italiana, di tanto in tanto parlavamo di cucina. Conservo ancora la ricetta della pasta alla puttanesca che mi aveva scritto su un blocchetto della procura. Era un sugo molto buono e ogni tanto ce la preparava anche lui quella ricetta e la uso ancora a casa, sì. Ormai ce l'ho da 30 anni. negli Stati Uniti ritenevamo che Buscetta rappresentasse un'opportunità unica perché avrebbe potuto testimoniare in un processo sul traffico di eroina a New York. Fu un'indagine spettacolare. Mi fecero ascoltare migliaia di intercettazioni telefoniche per tradurre alla polizia americana tutto quello che non capivano. Mettiamo che dicessero ti mando due tavolette e mezzo di cioccolato. Il cioccolato è dolce come il denaro significava che stavano mandando soldi. Quando invece dicevano ti mando cinque camicie bianche intendevano cocaina la cocaina è bianca ed era quella la merce. Erano questi alcuni dei punti che Buscetta ci stava aiutando a chiarire. una volta l'ho accompagnato in Italia dove doveva testimoniare. Era convinto che non ne sarebbe uscito vivo pensava che lo avrebbero assassinato. Ricordo che neanche noi avevamo la certezza che sarebbe tornato vivo e temevamo di fare la stessa fine. il problema all'epoca era che Buscetta era un testimone così importante che chiunque avesse avuto a che fare con lui era in pericolo. non riesco a far pace a far pace con Buscetta anche a distanza di 32 anni è troppo profonda la ferita. era il 7 di dicembre del 1984 e la sera chiudiamo l'azienda mi rimetto in macchina e mi avvio verso casa io in lontananza vidi un cavalello di gente di confusione poi avvicinandomi vidi dei uomini in divisa vidi dei carabinieri mi misi ancora più cercai di mettermi più in punta di piedi per vedere meglio cosa era successo anche per una forma di curiosità guardo ancora in filo c'era un uomo riverso per terra coperto da una tovaglia del ristorante e da questo corpo inerme spuntavano solo i piedi un paio di scarpe marrò con dei calzini azzurri erano i calzini di mio padre la vittima si chiamava Pietro Busetta di 62 anni ed era sposato con Serafina Busetta una delle tre sorelle di Tommaso Busetta un killer solitario ieri sera intorno alle 20 gli ha sparato tre colpi alla testa Pietro Busetta non aveva collegamenti con le cosche mafiose confermando quindi che la mafia ancora una volta ha voluto punire Tommasino il boss dei due mondi al quale sono già scomparsi due figli e sono stati uccisi un fratello e tre nipoti a Palermo lo hanno fatto con mio cognato una persona innocua indifeso inerme ecco perché cambiano i concetti della mafia le cose si svolgerono fra di noi il fatto era personale il fatto è tu Tommaso Busetta hai sbagliato tu paghi adesso si pagano anche chi non ha colpe niente l'impatto che ha avuto Busetta nella vita è stato deflagrante come una bomba al Napalm dopo la morte di papà noi eravamo una paura che non si può descrivere e ci diedero una scorta che era 24 ore su 24 questa scorta che pattugliava tutto il giorno davanti la nostra azienda i clienti è stata un'ecatomba proprio considero moralmente annullato il rapporto con sanguigno io non mi voglio chiamare più Busetta questo è quello che ha scritto mia madre quindi a distanza di poco più di tre settimane lui l'è scritta una lettera chiedendole di perdonarlo non ho permesso a mamma che desse questo perdono al fratello perché quello che aveva fatto a mamma non lo meritava però poi la mamma si aggravò la mamma si è de male io quando vi di la mamma in fin di vita io mi avvicinavo alla mamma e chiesi mamma come ti senti e la mamma quasi col sorriso in quelle condizioni che forse non sapeva più che significava sorridere mi disse Masino niente Masino io mamma sono Giovanni non sono Masino ma chi stai nominando Masino Battagliusa sogno ciò che rende unico questo maxiprocesso è che per la prima volta si fa breccia nel codice di omertà di Cosa Nostra quella che è stata definita aula bunker è il simbolo della determinazione dello stato che finalmente sfida la mafia nel suo territorio enormi vetrate a prova di proiettile costeggiano un altro recinto di acciaio a prova di bomba è questa la scenografia orribile e imponente retta a protezione delle pareti oltre le quali andrà in scena una litania di morte il processo più importante contro Cosa Nostra cui al di là del numero enorme di imputati 475 475 imputati perché è il primo che consegna ai giudici la famosa visione unitaria di Cosa Nostra sembra incredibile oggi ma dobbiamo tutto contestualizzarlo c'era in Sicilia addirittura chi sosteneva che la mafia non esisteva che erano dei criminali come in tutte le parti del mondo ce ne sono questo è il maxiprocesso questa non è una domanda se spendiamo 10 minuti presidente sono la pena di anni 15 di reclusione quindi i signori se sono onesti sono uomini d'onore devono dire perché ha ucciso mio figlio non è vero una mattina si alza l'avvocato di Buscetta e comunica al presidente signor presidente volevo comunicarle che l'imputato Tommaso Buscetta che aveva rinunziato a comparire è a disposizione della corte entra Buscetta entra sua maestra tutti zitti so cosa stava pensando aveva fatto la sua scelta era determinato non aveva dubbi finalmente ho pensato io non sono pentito perché non ho niente da cosa pentirmi quello che ero io rimango io non condivido più quella struttura a cui io appartenevo ma dagli anni 70 in poi questa associazione cosiddetta cosa nostra ha sovvertito ideale poco pulito per la gente che vive dentro la legge ma tanto bello per noi che vivevamo in questa associazione non voleva essere considerato un pentito perché come mafioso è scritto testualmente così da Falcone non ho nulla io di cui pentirmi sono loro le persone di cui parlerò che hanno tradito il codice della mafia loro hanno tradito la mafia io facendo quello che farò difendo la vera mafia la vesti così a noi non ce ne fregava niente l'importante è che ci dicesse le cose che ci ha detto la commissione è composta da tutti i capi mandamenti i capi mandamenti vengono scelti in seno a tre famiglie vi sono altre cariche alla famiglia sì rappresentanti sotto capo consiglieri capi di scena se si uccide un capofamiglia senza il consenso della famiglia stessa le reazioni sono guerre di mafia noi avevamo le tessere del mosaico ma non sapevamo dove inserirle Buscetta ci dà il disegno essersi obbligato a violare il codice di omertà deve averlo distrutto glielo leggevo in volto mio padre era cambiato mio padre stava soffrendo la sua aura è cambiata durante quell'esperienza i tentativi per screditare Buscetta agli occhi dei giugi furono fatti in particolare ci incappò un imputato importante che si chiama Calò ex grande amico il quale chiese un confronto un faccia a faccia Presidente Buscetta a me ancora continuo sentire non mi chiamare neanche Buscetta e dici un nome qualsiasi perché tu hai calpestato come vuoi che ti chiamano hai calpestato a chi hai accarezzato Buscetta scusa un attimo scusa presidente lui lo sa i rapporti che avevo con suo fratello se risulta questo rapporto con mio fratello vai avanti continua ma che ti risponderò subito va bene allora io siccome conosco conoscevo abbastanza bene il fratello con le lacrime all'occhi quindi se mi raccontò proprio il fatto di vede dice Massimo che cosa mi accorderà se mi è andato di nuovo mi ha lasciato un figlio in farce un altro trocato questo che ho raccontato dico di che cosa è capace signor Buscini ma signor Buscetti io sono arrabbiato con costui ma arrabbiato lascia stare non sei arrabbiato perché in 400 pagine di interrogatorio non ho mai toccato a nessun problema familiare di nessuna persona ma io è molto strano il comportamento di un uomo d'onore il quale lui è parlare delle mie vicende personale di famiglia c'è di più che l'unica verità che lui dice in questa aula è che mio fratello aveva un'amicizia molto cara con lui però lui sta dimenticando in questo momento di essersi seduto insieme a tutta la commissione per decidere la fine di mio fratello e di mio nipote lui doveva solo limitarsi a non parlare della mia famiglia è vero? il mio figlio è un ragazzo ingenuo un ragazzo pulito un ragazzo apposto è vero? si ma scalzone ma scalzone è vero? è vero? è vero? è vero? è vero? è vero? silenzio sentite oh c'è mezza famiglia mi hai fatto ammazzare perché non mi facevo ammazzare la storia che racconta ma non ti preoccupare perché non mi hai trovato sconfitto di farlo adesso non ti puoi far ammazzare perché sono ben guardato non te ne puoi andare devi aspettare qualche anno sconfitto di farlo non te ne puoi andare perché tu sei ipocrita bugiardo mafioso ma ipocrita l'hai divorciato tu tu sei un padre e Bucetta poi come dire ricorse anche con abilità a un aspetto emotivo perché gli ricordò un delitto di cui Bucetta forse si era dimenticato non aveva mai parlato e gli disse tu l'hai ucciso con le tue mani Giannuzzo Lallicata mi ricordo ancora e no continuo ad essere con le tue mani l'hai fatto la faccia di Calò in quel momento non so se dalle immagini riprese dalla televisione ma io che ero lì e lo guardavo era a dieci metri da me lo ha distrutto fu un massacro per Calò e infatti Calò si è beccato del gas gastoli per tutti i vertici tutti i capi di Calò si hanno beccato tutti del gas peso determinante quindi da quel momento in poi la sua vita è legata ma non a un filo non temeva di morire ma temeva possibili conseguenze per i suoi familiari e grazie a Dio noi eravamo tutti negli Stati Uniti da quando Tommaso Buscetta ha tradito Cosa Nostra le cosche hanno cercato di reagire sia in Italia sia negli Stati Uniti ieri Palermo è stato a teatro del più grave massacro di mafia nella storia della città otto uomini sono stati uccisi mentre si incontravano in una stalla persino una città come Palermo colpita negli ultimi anni da centinaia di omicidi è rimasta inorridita dal massacro di ieri secondo gli inquirenti si è trattato di un avvertimento per qualunque uomo d'onore tentato di seguire l'esempio di Buscetta Stasera nel centro di Manhattan il cielo è limpido e il termometro fa segnare 6 gradi domani in un'aula di tribunale Tommaso Buscetta ribattezzato il post dei Due Mondi tradirà la mafia Gli investigatori possono contare su uno dei più importanti pentiti di mafia della storia Il caso è stato battezzato a Pizza Connection perché secondo la procura le cosche usavano una serie di pizzerie per distribuire eroina in tutto il paese Queste pizzerie venivano usate per riciclare milioni di dollari frutto di questi traffici illeciti soldi che venivano depositati in banca dai proprietari dei ristoranti Il primo testimone Tommaso Buscetta un affiliato della mafia siciliana sta violando il codice di omertà Con le sue rivelazioni ci ha aiutato a capire e a dimostrare la rete di legami tra la mafia siciliana e quella americana Esiste tuttora una collaborazione e in che tipo di attività? Attività è droga A suo avviso negli Stati Uniti gli stupefacenti oggi rappresentano la principale fonte di introiti per cosa nostra? Sì Io quello che ho visto è lo smercio dell'eroina dalla Sicilia agli Stati Uniti Quindi è fatto dubbio che per poter vendere la merce negli Stati Uniti loro abbiano avuto il consenso della mafia locale Nel corso della sua deposizione lei ha usato più volte l'espressione uomo d'onore Oggi concorda sul fatto che non c'è nulla di onorevole nell'essere un assassino? D'accordo con lui nel mio sedamento ho dovuto sempre citare uomo d'onore perché è così che si chiamano fra loro perché io non mi chiamo più io sono uno che ho tradito Sì e guarda che bello questo lungomare ti ricordi la serie Miami Vice? Finalmente dopo tre anni di separazione tornai dalla mia famiglia il gioco il gioco qua di Miami eravamo così felici la prima sera che nemmeno mangiamo pensava che sarebbe tornato a fare il padre il capofamiglia ma ormai i ragazzi si erano abituati a stare con me e ogni volta lo ignoravano dicendo mamma posso fare questo? posso fare quello? come se non esistesse e questo lo feriva profondamente profondamente papà ci teneva moltissimo a mantenere le tradizioni italiane aveva paura che col passare del tempo ci saremmo troppo americanizzati Tommaso ha fatto una fatica enorme ad adattarsi agli Stati Uniti era un siciliano doc al cento per cento adorava il prosciutto la mozzarella com'è la vita? bene bene con la mozzarella il pranzo della domenica con la famiglia tutta riunita aveva perso la sua identità non sapeva più che fare della sua vita non poteva lavorare non poteva incontrare altri italiani non poteva fare nulla per questione di sicurezza mi diceva io qui non sono nessuno ed è mia moglie a lavorare è una cosa che non sopporto io rispondevo e meno male che riesco a lavorare il mio primissimo lavoro in America è stato occuparmi di funerali non è un bel lavoro c'era una ditta di pompe funebri che cercava personale e mi sono proposta sono la peggiore piazzista che si possa immaginare mi ha detto sei perfetta ho risposto bene cosa devo fare mi ha illustrato le varie tipologie di esequie il catalogo delle bare non ci credevo cosa c'entravo io con quella roba ma mi servivano i soldi e ho fatto vendita porta a porta ma mio marito lo viveva come un dramma personale si sentiva un mantenuto ecco il nostro lavoratore eccolo qui ecco il lavoratore di ciao ciao perfetto era ancora un uomo nel pieno delle sue forze e all'improvviso non poteva più guadagnare una lira oh ecco il nostro lavoratore è lui è lui va bene forza al lavoro basta d'accordo basta che vi lasciate sempre solo no ups mi sa che vuole che lo aiuti una volta è una famiglia è un'ultima che è una famiglia per una settimana sentirò ah è festa tutti vengono mangiano se ne vanno e adesso mi aiuta che ci pittano allora per evitare tutto questo lo faccio io lo faccio io eh va bene oggi è il 4 di luglio siamo tutti riuniti chi abbiamo qui papà che esce a cucinare eccolo lì aiutalo ora mi rendo conto che stava attraversando una fase difficilissima dal punto di vista psicologico in quel momento si sentiva un signor nessuno oggi mi ritrovo con una nuova identità anagrafica ne ho cambiate tante e probabilmente non sarà l'ultima i miei figli mi guardano e mi chiedono papà come mi chiamo come me sono costretti spostarsi da città a città logico che questo creava differenza in famiglia oh guarda li stanno litigando guardami mamma dai mandami un bacio Stefano piantala in totale avrò passato dieci anni con Tommaso e la sua famiglia mi occupavo della sua protezione lo accompagnavo in Italia in diverse parti degli Stati Uniti l'ho accompagnato a Washington dove volevano che testimoniasse con lui doveva sempre esserci qualcuno per motivi di sicurezza deve stare alla larga dai night club dai luoghi affollati fa la vita del recluso non so se riuscirà a resistere o se la famiglia glielo consentirà non lo so secondo me non ce la farà secondo me questione di 5 6 10 anni gli accadrà qualcosa finito il processo l'ho trasferito in un altro nascondiglio era la prima volta che viveva con la famiglia senza la presenza di agenti noi avevamo affittato la casa accanto non potevano muoversi senza il nostro permesso l'ho trasferito una, due, tre volte accidenti guarda che rotolo questo è per il trasloco è gigantesco non ci credo ci impacchettate la vostra roba mettilo pure laggiù in fondo per chi non l'avesse capito traslochiamo non si finisce mai che strazio qui è dove dormiremo stanotte se ci avessero trovati lo avrebbero ucciso è sicuro perciò eravamo molto prudenti allora non sapevo che avesse una pistola dovevo avere 15 o 16 anni stavamo ristrutturando la casa dove vivevamo mi è caduto uno scatolone che avevo preso in camera sua ed è caduta la sua pistola non ho battuto ciglio l'ho rimessa dentro e ho chiuso lo scatolone come se nulla fosse guarda quanti alberi ecco la casa è questa qui non voglio più vederli quei camion ma siamo arrivati sani e salvi siamo arrivati stanotte a mezzanotte e ora eccoci qua in questa casa ho vissuto uno dei periodi più felici della mia vita per un anno siamo stati tranquilli è andato tutto bene vicini gentili una vita serena è andato tutto bene sì mi manca quel periodo che bello guardate non ci credo che succede arrivava Buon Natale la sicurezza veniva prima di tutto qui lui era passato inosservato sembrava uno dei tanti latinos della zona con quei baffi poteva passare per messicano dov'è Lisa? Lisa? hai un bel sederino ma preferisco il tuo visetto non mi era permesso di pronunciare il cognome Buscetta Buscetta mai fino a oggi non osavo pronunciarlo non perché mi imbarazzasse ma solo perché mi era stato detto che con quel nome potevo mettere a repentaglio l'incolumità della mia famiglia perciò se provate a cercare il mio vero nome nei registri scolastici io non esisto ogni volta che cambiavo scuola cambiavo nome siamo ancora in pericolo per questo mi sento tuttora a disagio a pronunciare quel nome Stefano Stefano di ciao non mollava Stefano un secondo perché Stefano era l'unico figlio che aveva frequentato dalla nascita fino all'adolescenza lo accompagnava a scuola alle lezioni di nuoto era la sua gioia mio padre era felice è stata l'unica volta perciò per lui aveva attenzioni particolari non sono mai stato geloso per questo solo non capivo perché con lui si comportava in una certa maniera e con me in un'altra nutriva il suo cuore con l'amore che i suoi figli provavano nei suoi confronti soprattutto quello di Stefano Stefano era piccolo non sapeva nulla della mafia o di cosa nostra quando parlavo con qualcuno quando facevo amicizia con i vicini raccontavo sempre che Tommaso era un consulente del governo italiano ed era così per certi versi detestavo quando mi toccava rispondere alle solite domande che si fanno sempre che lavoro fa a tuo padre ancora questa domanda era un continuo era un investitore straniero era un consulente lavorava nel vetro nell'edilizia di tutto qualunque cosa suonasse plausibile all'epoca i primi vicini i primi che ci hanno dato il benvenuto buongiorno vai ciao su ciao 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 e dopo un po' si ricominciava andavi a scuola ti facevi nuovi amici raccontavi bugie andava tutto bene finché non ti trasferivi di nuovo e si ripartiva da capo ogni volta la stessa storia ogni santa volta vi garantisco che non ho mai vissuto in una casa più di tre anni e di anni ne ho 43 la prima regola era mai dire a nessuno a chi eri mai fidarsi di nessuno nemmeno delle persone più socievoli a prescindere dal rapporto che avevi instaurato perché la mafia non dimentica prima o poi conoscerai qualcuno che conosce uno che conosce qualcun altro e allora ti vengono a scovare le clamorose rivelazioni di Buscetta hanno portato a più di 5 genitori dall'improvviso è spuntato in televisione finalmente il mondo può vedere in volto il boss dei due mondi era un programma su cosa nostra Stefano era seduto davanti alla tv avrà avuto 8 anni e ha riconosciuto le mani ha riconosciuto la voce mi distingueva la sagoma nell'ombra e ricordo la sua espressione sconcertata sul viso Stefano si era buiato di colpo non sapeva che fosse suo padre mi ha guardato e mi ha chiesto mamma papà ha ucciso qualcuno ho risposto no no ho mentito perché volevo proteggere mio figlio dirgli a 8 anni che suo padre era un assassino lo avrebbe sconvolto potremmo definirla la perdita dell'innocenza ha visto davvero cadere il velo aveva una certa immagine del padre e all'improvviso gli è crollato il mondo addosso quando ha scoperto che Stefano sapeva Tommaso non si dava pace gli ho detto è il momento di prendere i due ragazzi da parte e parlarci e lui mi vergogno sono imbarazzato non ce la faccio oggi vivo una vita che non mi appartiene ogni giorno ogni sera ogni minuto vivo la mia vergogna ho fatto qualcosa che doveva portare bene alla mia famiglia ma il costo fu la mia dignità il prezzo più alto di tutti col tempo è cambiato si è incubito si è chiuso in se stesso teneva a distanza persino le persone che amava ed è in quei momenti che diventava violento pugni, calci gli dicevo è tuo figlio non un compagno di cella che ti ho fatto per trattarmi così perché questa rabbia nei miei riguardi perché te la prendi soltanto con me lo odiavo in quei momenti con me papà si comportava in un modo con mio fratello in un altro Roberto prendeva un sacco di botte mio padre decide di uscire tutti insieme per festeggiare come sempre era seduto dando la schiena alla parete voleva tenere tutto sotto controllo abbiamo ordinato e gli ho detto qualcosa non va secondo me quel tipo ti sta fissando un po' troppo insistentemente lui ha risposto non possiamo mica andarcene così a quel punto il proprietario si è avvicinato con un cantante si mette a cantare la canzone di Totocotugno quello che fa sono un italiano vero ma cambia le parole e canta sono fiero io sono un siciliano vero e mi fissa negli occhi Tommaso era abile a non far trapelare le sue emozioni mi ha detto prendi la macchina sapeva che se fossimo rimasti in quel ristorante qualcuno ci avrebbe aspettato all'uscita e ce ne siamo andati subito alcuni genitori insegnano alla famiglia cosa fare se c'è un incendio noi avevamo un piano d'emergenza a tutto nostro sapevamo che se papà ci fissava in un certo modo dovevamo andarcene senza fare domande e di corsa negli Stati Uniti a volte succede che un contratto per un omicidio su commissione dopo qualche tempo decade ma la mentalità siciliana è molto diversa se i siciliani te l'hanno giurata quella minaccia dura per sempre ho risposto io alla chiamata lui era uscito per andare a prendere il giornale quando è rientrato sveglio come era ha subito capito che qualcosa non andava cosa è successo ha chiesto ho risposto papà hanno appena ammazzato Giovanni Falcone da magistrato Giovanni Falcone ha mandato decine di mafiosi dietro le sbarre lui, la moglie e tre uomini della scorta sono rimasti uccisi su questa autostrada nell'esplosione di una bomba secondo gli esperti antimafia l'attentato sarebbe una vendetta di Salvatore Erina detto la belva la reazione di mio padre è stata incredibile non è riuscito a trattenersi sul volto aveva un'espressione di totale sconforto tutto ciò per cui aveva lavorato stava crollando a pezzi ho visto il terrore nei suoi occhi la sua famiglia lo aveva deluso un giorno mi ha detto nessuno ha capito non sono uscito dalla mafia per me l'ho fatto per loro per te per i miei figli per non vivere più questo incubo e non importa a nessuno questa è la pioggia della Florida una pioggia nella Florida poche ore fa Enzo Biaggi tentito telefonicamente Buscetti ancora negli Stati Uniti protetto dall'FBI pronto? Tommaso mi sente? io a lei la sento sì benissimo allora hanno preso Tottor Iina che cosa ne pensa? è stata io credo che sia stato il primo miracolo del 1993 una cosa bellissima è il mio grande nemico perché io non so chi sono stati gli esecutori materiali che mi hanno distrutto mezza famiglia però so senz'altro che lui ha dato il suo assenso per distrugermi la famiglia chi è che non ci rivolgeva a lui per fare un omicidio? lei pensa che hanno ucciso i miei figli o li hanno fatto scomparire i miei figli e lui non lo sa è una cosa assurda i miei ragazzi che il 24 dicembre vanno a fare colazione mi ha detto andiamo in Italia ora laggiù siamo al sicuro ha detto amo quel paese lì ero me stesso ero io di solito non servo la colazione sostituisco una collega vorrei vorrei quella torta la prendo da sola d'accordo facciamo i bagagli e poi partiamo ehi gente qui è dove vivo nella bella città di Miami in Italia mi mancheranno queste strade enormi è il nostro ultimo giorno a Miami dopo dieci anni di vita in casa in America oggi cominciamo una nuova fase spero che sia migliore ciao ciao quando Stefano è arrivato qui aveva tre anni ora stiamo andando a vivere in Europa Stefano odiava questi continui traslochi mamma appena mi faccio degli amici non ci li perdo non gli piaceva per niente non gli è mai piaciuto mai ma mio marito era tosto voleva tenerli sempre accanto a sé secondo me pensava che l'America fosse più pericolosa guarda chi c'è è arrivato papà la casa è vuota ma ora c'è papà sapevo che sarebbe arrivato la parentesi romana è stato un periodo felice per noi sembrava quasi una vita normale ma non era normale per niente in Italia erano la nostra ombra erano sempre con noi a pranzo c'erano loro a Natale c'erano loro le guardie del corpo non ci mollavano un secondo erano presenti anche quando non ce ne sarebbe stato bisogno ed era una scena abbastanza buffa vedevi questo mafioso circondato da un gruppo di agenti federali si divertivano insieme sembravano dei bambini una cosa assurda ho sempre avuto un sacco di zii all'inizio erano gli zii di Cosa Nostra qualche anno dopo erano gli agenti della DEA e quelli dell'FBI accidenti quanti zii ho avuto gli piaceva l'Italia perché era circondato in ogni momento da più o meno sei agenti lui non li considerava delle guardie del corpo erano i suoi migliori amici aveva un disperato bisogno di calore umano al nostro arrivo ci ha fatto una sorpresa ha detto vi porto in crociera del giorno 13 di agosto del 1995 questa è Napoli era così felice di potermi fare un regalo in quel momento ho pensato non prendi qualche precauzione che so tingerti i capelli e lui ha fatto no no tranquilla e siamo partiti mio padre voleva portare mamma in crociera e mi ha chiesto se volevo accompagnarli è un regalo per tua madre tuo fratello ci viene e tu? ho risposto no grazie papà e se questo significa fare a meno della tua protezione pazienza è nata una discussione e io gli ho detto non è una decisione che spetta a te non più ormai e in quel momento ho acquistato definitivamente la mia libertà era una crociera nel Mediterraneo nelle isole greche in Egitto per un adolescente era un bellissimo viaggio e passava il tempo con un gruppo di coetanei Stefano era felice per tutto il tempo un uomo ha cominciato a scattarci delle foto ci perseguitava si comportava come un giornalista aveva subito riconosciuto Tommaso e buonasera dal Tg1 apriamo dunque il giornale con il caso Buscetta il caso nato dopo le rivelazioni del settimanale Oggi che ha fotografato e intervistato il più importante pentito di mafia mentre era in crociera nel Mediterraneo la notizia ha fatto scattare subito l'allarme per la sicurezza di Buscetta hanno pubblicato foto di mio fratello che nessuno conosceva trasformandolo in un bersaglio hanno interrotto la crociera per lui era molto rischioso trovarsi confinato a bordo di una nave con tutti quegli italiani e Stefano si è vergognato gli amici gli dicevano Stefano, Stefano tuo padre su tutti i giornali hanno chiamato la guardia costiera che ci ha portato via questo ha cambiato completamente la nostra vita a causa dei rischi a causa della mafia abbiamo dovuto lasciare l'Italia ogni volta che succedeva qualcosa era a causa di mio padre o mia madre ho capito che l'unica soluzione era di vivere la mia vita con noi puoi diventare chi vuoi mi sono arruolato ero stanco della clandestinità delle menzogne di non poter essere quello che volevo ho combattuto in Iraq e in Afghanistan ed è triste perché sono finito in mezzo a un branco di soldati e degenerati per trovare l'affetto che la mia vita mi aveva sempre negato chi sono io? sono il figlio di un gangster mafioso diventato collaboratore di giustizia capito? chi sono? che cosa ho fatto? nulla e nessuno mi rispettava non è così che voglio vivere a 30 anni di distanza rimango un bersaglio porto il nome Buscetta e quello che è successo nel 1995 lo dimostra ho perso un altro cugino un'altra giornata drammatica in Sicilia da giorni la mafia è tornata ad uccidere questa sera a Palermo è stato ucciso Domenico Buscetta nipote di Tommaso il suo unico crimine era di essere mio parente e portare lo stesso cognome di un pentito di mafia anche se avrei voluto salvare i miei cari da questa strage continuare a fare non ero a testimoniare contro questa gentaglia Riina già condannato a nove ergastoli sarà di nuovo processato per l'omicidio del giudice Falcone oggi in aula avrà davanti uno dei suoi più acerrimi nemici Tommaso Buscetta il pentito di mafia cui ha fatto uccidere diversi familiari ma Riina rifiuta di parlare lei quando ha rifiutato il confronto con Buscetta perché non è della mia statura è uno che ha troppi amanti ma lei che cosa ne sa? non ho detto amanti ho detto anche tante mogli tante donne vabbè e io quando mi riferisco di moralità passo dalla mia famiglia quindi noi viviamo nel nostro paese di cosettezza morale nessuno le può imporre di rispondere a Buscetta signor Giudice non è che insiste perché lei non ha niente da insiste io l'ho pregato che non voglio fare i confronti io ho il mio diritto e quindi mi ottengo il mio diritto di non fare i confronti diritto di parlare? perché lui parla di moralità con me per le donne quest'individuo può parlare di moralità quando è l'artefice della fine dei miei cari ha ucciso tanta gente innocente lui parla di moralità a me dov'è la sua moralità? Rina la faccia vedere la faccia conoscere dov'è la tua moralità ma dov'è la tua moralità? la mafia finirà quando un mafioso parlerà Rina mafia finita era fiero di essere riuscito a dire in faccia a Rina quello che voleva dirgli ma trovarsi di fronte all'assassino dei suoi figli lo rese molto cupo e taciturno la casa nel nord di Miami è stata l'ultima in cui ha vissuto con massa con massa no 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 wrong there you go Buongiorno a tutti. Era convinto che sarebbe morto ammazzato, invece quando gli è venuto il cancro è rimasto sorpreso. Ha detto tutto mi sarei immaginato, tranne che morire per un cancro. Ti piace la maglietta? Ti piace o no? Abbiamo la tua approvazione? Ti piace? Ma credo che non la metterò mai. Sarà bello. Non è mai! Dopo 70 anni dalla mia vita mi è andata a comprare queste camicie qua. Cristina, mia madre, vive da sola. Se lo sapesse papà... Il 23 dicembre 2007 Stefano è morto in un incidente con la moto. È una fortuna che mio padre ci sia risparmiato quel dolore. Mio figlio è qui. Mio marito è qui. Qui dovrei esserci io, non mio figlio. Non mio figlio. E invece no. Sono ancora qui. Non mi sono mai pentito di esserne pentito. Il mio solo rimpianto è di essere entrato in cosa nostra. Il bilancio? Ho perso due figli, un fratello, un cognato, un genero e quattro nipoti. E me che avrebbero dovuto ammazzare, piuttosto che vivere come un traditore, sarebbe stata la cosa giusta. L'euro, un vero, un coraggio. Grazie a tutti.